Il senatore Vito Vatuone è il nuovo segretario regionale Ligure del Partito Democratico. Dopo questo passaggio il PD pensa già ai prossimi appuntamenti elettorali ed è lo stesso Vatuone a parlare dell'imminente voto nel capoluogo di regione. Il momento è complesso, ma spero che ci sia la volontà tra le forze del centro-sinistra di indicare un candidato unico per il sindaco di Genova, ha detto, auspicando lo stesso percorso per le comunali della Spezia. Un'esortazione quindi a presentarsi in maniera unitaria, senza passare attraverso le primarie che spesso causano più lacerazioni che confronti costruttivi. Per Genova il nome del candidato potrebbe essere ufficializzato alla fine della settimana, anche se da indiscrezioni prende sempre più consistenza la candidatura dell'assessore comunale uscente alla protezione civile Gianni Crivello. Il PD deve pensare a se stesso e cercare di andare unito con il centro-sinistra, ha commentato l'onorevole Mario Tullo. Crivello può unire e ha dimostrato di saper amministrare il territorio. A sostenere il nome di Crivello anche il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Raffaella Paita. Ha lavorato molto, è popolare, conosciuto anche nei quartieri in sofferenza, ha detto. È molto stimato e mi pare una figura aggregante. Il centro-sinistra deve stare unito. Sono ottimista. I tempi sono comunque maturi e dentro una settimana sarà ufficializzato il nome, per poi avviare i tavoli politici con le altre realtà che compongono il centro-sinistra.